E' chiaro che disputare una partita contro la Juventus dà ancora stimoli superiori, sappiamo che è l'avversario più forte del campionato e quindi è molto stimolante quello di misurarci con loro e vedere un po' che cosa siamo in grado di fare. Questi sono giocatori che non è che si possono seguire di più o di meno, questi sono giocatori che hanno qualità tecnica, che hanno tutto, non solo tecnica e Giovinco lo sta dimostrando con i fatti, non avevo dubbi, ma non perché mi torna facile parlarne bene, ma perché è dire semplicemente le cose come stanno. Quindi è una squadra importante, con dei giocatori importanti, come Giovinco, parlando nello specifico, e li puoi affrontare solo e semplicemente se giochi da squadra, non tanto a livello singolo, perché sono giocatori che hanno indubbiamente qualcosa in più rispetto agli altri. e se la vuoi impostare semplicemente con un duello testa a testa, 9 volte su 10 ci sconfitto, quindi devi ragionare molto a livello di squadra.